In casa Alessandria il momento non è dei migliori, e la sconfitta interna contro il Pisani è una riprova. La società sta ragionando in queste ore, anche se c'è la concreta ipotesi che si possa andare avanti con mister Stellini anche nella trasferta di Gorgonzola contro la Gianna Erminio. In caso di risultato negativo, l'esonero diventerebbe, naturalmente, una logica conseguenza. Tanti, nel frattempo, i nomi accostati alla panchina dei piemontesi. L'ultimo, in ordine temporale, porta direttamente a Franco Lerda, in foto. Il trainer di Fossano, durante la prima parte della scorsa stagione, ha guidato il Vicenza in Serie B.